Mi sono appena vaccinato insieme ai medici dell'USMAF, che sono i medici del Ministero della Salute, che controllano le frontiere del nostro Paese, vanno sulle navi quarantenarie, accolgono gli immigrati, fanno i controlli sui passeggeri in arrivo. È bene che tutti gli operatori sanitari si vaccinino quanto prima, in modo da proteggere se stessi e allo stesso tempo proteggere anche le persone con cui vengono a contatto. Si tratta di un comune vaccino, come ne facciamo tanti durante la vita, una semplice punturina.